Devono andare a tutela dei cittadini, devono andare per il soccorso, devono andare per i mici del fuoco indiviso. Vogliamo solo quello. Quindi è importante che oggi siamo tutti qua a protestare. Andremo davanti al suo eccellenza il prefetto, manderemo una lettera che adesso vi leggerà a Basile dove chiediamo che lui si interparci con i poteri forti del palazzo. Questo si sta facendo qui a Novara, lo sta facendo Cuneo come Piemonte occidentale, Novara lo fa come Piemonte orientale, lo sta facendo la Lombardia, tutte le province d'Italia sono oggi davanti ai prefetti. Adesso questi soldi devono solo essere spartiti in giusto maniera. Poi noi non ci fermeremo, Brizzi, dopo il sovro della PAN, non ci fermerà fin quando la separazione non sarà scortata. Tutto questo. Siamo oggi in piazza, come tutte le altre piazze italiane, la maggior parte, per la richiesta di questi ulteriori 50 milioni circa per l'equiparazione totale. Attraverso l'assegno funzionale che tutte le forze di polizia hanno e l'aumento dell'indenità di rischio di ognuno di noi. Attualmente l'amministrazione dei Vigili del Fuoco, ripeto, ha proposto di dare 60 euro di indennità di rischio a tutti noi e 45 euro a un amministrativo che è in ufficio a fare pratiche di ufficio. Quindi il CONAPO è assolutamente contro a questa proposta perché gli operativi che rischiano la vita e sono qui stamattina devono avere la giustitabilità di rischio, devono avere, come la seconda proposta, devono avere il 100% dei fondi dell'articolo 15 del soccorso pubblico e devono essere a favore di tutti i Vigili del Fuoco operativi. La cosa più importante è il messaggio, il messaggio che ha dato Antonio Brizzi, da solo a Roma a fare sciopero della fame, cosa che molti di noi non avrebbero fatto. Ognuno di preparazione totale è soprattutto che nell'articolo 15 ci siano la divisione dei fondi che siano dedicati solamente agli operativi dei Vigili del Fuoco. Questa è la cosa importante. Come non vogliono altri sindacati. Lo Stato riesce a trovare milioni e milioni di euro da dare alle banche, a dare all'associazione di golf, da dare alle ex, fortunatamente le assicurazioni sui parlamentari adesso sono scomparse dopo tanti anni, e non riesce a trovare 50 milioni per gli operativi del soccorso, per i Vigili del Fuoco è una cosa scandalosa. Ecco perché siamo qua oggi e non dobbiamo mollare. Oggi, quando andremo a casa, ognuno di voi dovrà portare queste parole nei vostri comandi e continuare quello che stiamo facendo. La nostra protesta non si ferma qua oggi, deve continuare, perché i Vigili del Fuoco si sono svegliati e adesso non siamo più come prima. Nel 2004 eravamo vicini per l'ingresso al comparto sicurezza e i sindacati confederali non hanno permesso ciò, hanno fatto il gioco dalle tre tanti e hanno nascosto la possibilità di separazione totale. Oggi come adesso, grazie ai social, grazie all'informazione, ai colleghi siamo tutti più informati, li possiamo smascherare. Le firme che ci sono state sono palesi a tutti, erano d'accordo sulla divisione totale dei fondi tra gli amministrativi e gli operativi. Il CONAPO oggi gli smaschera, oggi come allora gli smaschera, perché è giusto che i fondi di comunità vadano solo ai Vigili del Fuoco. Comunque adesso i quattro segretari e le quattro province che ringrazio per aver aggiornato questa folla firmeranno questo documento e sotto la firma del nostro delegato regionale presenteremo questo foglio, questo documento importante al Prefetto. Grazie a tutti. Buona giornata.